Ciao, piccola cosa veloce. Ci sono stati un po' di cambiamenti di cui volevo discutere un attimino in questo video rapidissimo per ricordare un paio di cose. Dunque, praticamente adesso nel mio lavoro, da quello che ho capito, farò solamente mattini e quindi il pomeriggio sarà libero, quindi avevo intenzione, dato che la sto provando da un pochettino sia qui su YouTube sia qui su Twitch e farò una doppia live, dalle 5 alle 6 qui su YouTube farò live di qualche gioco Pokémon, Dragon Ball, quello che mi verrà sotto mano, e poi dalle 6 a 6 e mezza, un quarto alle 7, le 7, ci trasferiamo su Twitch per giocare ad altro. Comunque, sono giusto quelle due orettine per avere un po' di contatto umano. Adesso, ovviamente, turni permettendo, questa settimana che viene farò così tutta la settimana, a parte sabato e domenica. Sabato per il semplice fatto che faccio il pomeriggio e domenica perché è Pasqua, sì, è Pasqua, e quindi faccio una gregliata e quindi probabilmente a quell'ora sobria. No! Ok, scherzi a parte. Quindi, a parte i video che continueranno ad esserci pochi, ma alcuni che ho in mente di fare, spero in questa settimana di riuscire a farne almeno un paio, più comici che quant'altro, come sempre. A parte questo, appunto, vorrei ricordare che dalle 5 alle 6 mi trovate qui in live su YouTube e poi dalle 6 in poi su Twitch. E ovviamente vi lascio qua sotto i link, sono in descrizione ma ve li lascio anche nel primo commento. Quindi, a parte questo, ci vediamo alle 5 qui in live. Continuiamo con Mystery Dungeon e poi inizieremo anche quello nuovo, cioè, quello nuovo nel senso, esploratori del tempo e dell'oscurità. Quindi, vi aspetto. Sì, devo rimettere poi a posto la webcam di questo video. Ma no, lo carico direttamente così non sto manco a editare. Ciao!